La navata centrale Il pavimento della navata centrale mostra cinque riquadri con raffigurazioni allegoriche che hanno conservato solo in parte l'esecuzione originaria e sono frutto di rifacimenti dei secoli successivi. Davanti al portale di centro è raffigurato Ermete Mercurio Trismegisto, il sapiente egiziano. Nel secondo riquadro, l'unico realizzato a mosaico, è rappresentata la lupa senese, circondata dai simboli delle città alleate. Il terzo riquadro presenta una decorazione a rosone con al centro l'aquila imperiale, simbolo di continuità con Roma antica ed emblema del potere civile. Il quarto riquadro fu eseguito su disegno del pinturicchio. L'allegoria del Colle della Sapienza presenta un gruppo di savi condotti dalla Fortuna sull'isola rocciosa dove siedono la Sapienza e i filosofi Socrate e Cratete. L'ultimo riquadro presenta l'allegoria della Ruota della Fortuna, una delle raffigurazioni più antiche del pavimento, rifatta nel corso dell'Ottocento. Alla sommità della ruota vi è un re in trono e sul suo perimetro sono abbracciate tre figure. Agli angoli del riquadro sono raffigurati i filosofi Epiteto, Aristotele, Euripide e Seneca.